crutch mindset benvenuti cari amici del canale dumpat rugby video imprevisto perché oggi era prevista la live la live con otavio anzi è prevista la live con otavio alle 9 del pomeriggio però nel pomeriggio appunto e la live con otavio alle 9 della sera vi invito a venire nella live e anzi potete anticipare anche qualche domanda sia sotto il post che ho messo in community sia anche sotto questo video direttamente però 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 ho avuto così l'istinto di mettermi davanti alla camera perché perché ho sentito questo pomeriggio all'inizio distrettamente poi iniziato ascoltare meglio ascoltare meglio ascoltare meglio ho sentito il podcast il podcast dal 28 devo fare i complimenti agli autori del podcast il nero e malfatto se non sbaglio molto bellino come podcast devo dire la verità io ogni tanto non sono sempre d'accordo con con quello che dicono non ho proprio la stessa lunghezza d'onda su tante cose però devo dire che veramente bellino perché danno voce al al campionato italiano e mi direte va bene perché hai ascoltato il podcast e ti devi mettere a fare un video sì perché padova ha scoperto le carte padova ha scoperto le carte lo sapete benissimo capire a me piace molto di più parlare di rugby giocato ma d'altronde lo fanno anche loro eh parlare di rugby giocato più che di rugby politico ehm però 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 quello che ha detto padova potrebbe veramente quello che ha detto al podcast il vicepresidente di padova potrebbe cambiare un po' le carte eh del panorama reggbistico nazionale e questo avviene proprio oggi il giorno in cui treviso annuncia invece la eh accademia under under 19 ma andiamo al sunto del discorso perché ci sono un po' di eh spunti veramente stuzzicanti come ad esempio come ad esempio una franchigia congiunta padova rovigo ho sentito bene una franchigia congiunta padova rovigo e poi una serie di ragionamenti che potrebbero magari portare treviso a tornare anche in top ten anche nel campionato italiano ehm non ma non vi anticipo nulla intanto vi invito per per correttezza a andarvelo ad ascoltare dalle parole vive poi appunto del presidente di padova di padova nel podcast però vi voglio riassumere un po' quello che è stato detto mettendoci anche qualche commento personale allora eh è stato invitato appunto al podcast dal ventotto eh Fulvio Lorigiola che o Lorigiola non lo so come si pronuncia che è il presidente adesso mi direte come l'hanno pronunciato loro sì però non mi ricordo l'ho scritto e c'ho il dubbio della pronuncia comunque eh il vice presidente del petrarca padova quindi una voce che arriva dai piani alti del petrarca e quindi possiamo prendere quello che ha detto il presidente un po' come delle dichiarazioni ufficiali e occhio perché siamo caldo come direbbero qui in Spagna ossia si è sbilanciato ha detto tante cose veramente interessanti la prima ha ribadito come eh sostenuto dall'imprenditore padovano banzato padova ha fatto una proposta in epoca gavazzi eh nella quale proponeva di acquisire il titolo sportivo ULC delle zebbre ecco quindi ha chiarito un attimo questo punto non sarebbe una terza franchigia poi non si sa mai però quello che ha proposto padova è acquisire il titolo sportivo delle zebbre quindi le zebbre fondamentalmente sparirebbero da Parma la franchigia si sposterebbe a Padova cambiando il nome e a Parma non ci sarebbero più le zebbre poi vedranno loro che cosa fare a Parma comunque insomma la proposta che è stata fatta da Padova è questa quindi ha messo ha chiarito anche questa cosa che era sì intuibile però per chi magari non è negli uffici eh federativi eccetera non è che al grande pubblico fosse proprio chiara e palese due che cosa ha chiesto Padova ha chiesto esattamente lo stesso trattamento di Treviso quindi si è parlato di quattro milioni e tre è stato bella veramente questa intervista perché sono stati fatti i numeri quattro milioni e tre a cui eh il il vicepresidente del Petrarca ha detto Treviso ne aggiunge almeno la stessa la stessa cifra se non di più ed è questo quello che si propone di fare anche il Petrarca Padova e e quindi questo è il tra è quello che è stato chiesto è stato chiesto da parte del Petrarca che cosa è stato risposto per adesso niente niente tranne un paio di cose un paio di cose occhio perché sono importanti allora eh dice è sempre l'origiola non avuto non hanno avuto risposte in questi anni nessuna risposta nel periodo gavazzi e due segnali di apertura che però per adesso sono solamente dei segnali in epoca innocenti quali due segnali uno promessa di aprire un bando quindi occhio perché se si aprisse un bando potrebbe non essere solamente il Petrarca e andiamo a vedere perché poi potrebbe essere una cordata Petrarca Rovigo ok ehm a avere appunto a partecipare a questo a questo concorso per per acquisire il titolo delle zebra e due è stato detto un'altra cosa altro segnale di apertura che in una cena alla quale partecipava anche Treviso immagino ovviamente la federazione qualche rappresentante della federazione Treviso non avrebbe avuto dice il presidente di Padova ovviamente nulla in contrario quindi diceva anche se avesse avuto qualcosa in contrario non erano loro la parte in causa però partecipa anche Treviso a questa famosa cena e eh Treviso non avrebbe nulla in contrario quindi si è discusso dell'argomento in maniera concreta bene e lì siamo fermi questo bando di concorso non è ancora stato aperto quindi né Padova né altri hanno avuto la possibilità di mettere le carte in questo caso non figurate ma le carte i documenti proprio sul tavolo e e quindi fermi lì siamo allora proviamo a rispondere un attimo con le parole appunto di l'origiona e e o l'origiona e come commentandole commentando un attimo che cosa ha detto alle classiche domande del giornalismo no dove come quando perché chi allora partiamo da dove e chi e le mettiamo un un attimo assieme va bene dove a Padova eh lo dice lo stesso eh presidente vice presidente dice nell'offerta è stato proposto di mettere a disposizione i nostri impianti le nostre strutture quindi partiamo da questo dove a Padova sicuramente a Padova se il titolo fosse dato in mano al Petrarca da solo magari a Padova e Rovigo se invece si realizzasse questa cordata e allora rispondiamo appunto a chi chi nel senso di eh chi quali club e chi di chi sarebbe la gestione allora nel podcast si è parlato di due cose si è lo stesso eh l'origiona ha detto siamo disponibili ad aprirci ad altre proposte per andare con una proposta congiunta con un'offerta e lui stesso anche senza particolari eh sollecitazioni ha detto è ovvio che sto parlando di Rovigo quindi il Petrarca stesso apre occhio è una notizia importante a una possibile se ne era già parlato in passato ma una possibile collaborazione Petrarca Rovigo per formare quella che sarebbe eh sì io dico una franchigia veneta però forse una franchigia più Petrarca Rovigo perché anche Treviso è veneta eh quindi non è che potrebbero in diciamo impossessarsi del del nome d'oggi per dire sarebbe comunque il Petrarca Padova ok il Petrarca Padova poi non lo so se la vorranno chiamare non lo so unione Petrarca Rovigo che eh che facciano loro come credono meglio e mh e quindi chi Petrarca Rovigo e anche nel podcast è eh tornata più volte la eh parola Munari il eh il nome di Munari che ricordiamo che Vittorio Munari grande voce e grande simbolo icona del rugby italiano e anche colui che portò Treviso eh a diventare franchigia quindi insomma esperto in questo tipo di operazioni e sicuramente esperto nel come condurre eh da direttore sportivo una squadra e in più in questo caso stiamo parlando della sua Petrarca del della sua squadra Treviso era un po' in terra straniera eh tra virgolette stiamo parlando di 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 cos'è una sessantina di chilometri ok quando interessante questa domanda quando beh non si sa però ci sono due cose da tenere in considerazione uno le Zebra hanno già fatto la campagna acquisti per la stagione prossima eh seppur non una campagna acquista campagna acquisti faraonica però insomma stanno portando giocatori stranieri eccetera eccetera e alla domanda quindi è difficile ipotezzare a partire da settembre duemilaventitré però alla domanda se fosse settembre duemilaventitré saremmo già in ritardo eh il presidente eh il vicepresidente di Padova non ha detto beh 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 ma di sta roba non ne parliamo nemmeno ossia veramente ormai siamo il 7 giugno quindi se parlassimo di settembre duemilaventitré vuol dire che forse qualcosa è già stato fatto però invece lui ha detto no il bando non è nemmeno stato ancora aperto quindi logica vuole pensare che sia impossibile pensare a settembre duemilaventitré però non è stata smentita categoricamente questa cosa quindi quando lasciamo appunto il punto di ehm di domanda aperto come l'abbiamo detto o Padova da sola ha detto chiaramente ehm l'origiona ha detto occhio la 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 proposta è stata fatta da Padova il noi siamo pronti ad assumerci totalmente l'impegno se qualcuno rovigo lo vuole fare insieme a noi siamo disposti a parlare però il morale della favola era bisogna mettere quattro milioni e tre all'anno e quindi non facciamo poi come era successo con gli ironi che alcune società eh satellite a un certo momento si sono ritirate si sono tirate indietro quindi volete venire con Padova ok ma andiamo fino alla fine e già li iniziano a vedersi ancora prima di iniziare le prime frizioni Padova rovigo tra l'altro ma il fatto ha detto non sarà facile mettere d'accordo Padova e rovigo da tutti i punti di vista insomma abbiamo visto nell'ultima finale del top ten che bene che si vogliono i patavini e i rodigini e perché occhio perché questa domanda è interessante che cosa ha risposto anche qui eh l'origiona ha detto migliorare la competitività prima di tutto ossia è stato detto bene in parole povere le zebbre eh fanno abbastanza abbastanza pena giusto proprio per andare dritti dritti al punto eh e quindi bisogna iniziare a vincere bisogna iniziare a essere competitivi le soluzioni la soluzione ibrida non funziona Treviso bene o male funziona un po' meglio anche questo è stato sminuito un po' Treviso eh io da tifoso di Treviso ho stato detto si fa bene male beh insomma una volta siamo andati ai playoff eh adesso vediamo vediamo quando entrate voi quanti anni ci mettete per arrivare ai playoff dai mettiamoci già un po' di mettiamoci già un po' di pepe e comunque interessante questo aspetto poi è stato detto liberare fondi e questo è molto interessante anche perché lì un po' è vero un po' fanno i furbi secondo me ossia che cosa viene detto viene detto bene se alle zebbre ci mettono sette milioni eh e a Treviso ce ne mettono quattro e tre vuol dire che ci sono tre milioni due milioni e qualcosa quasi tre milioni che ballano ha detto se questi i soldi per Padova li mette Padova li mette Banzato la federazione automaticamente avrà tre milioni da investire nel rugby di base ogni anno e li dico fatto un po' perché questo ragionamento che ovviamente non fa una piega la matematica è matematica io dico fanno un po' i furbi perché dicono sì e poi questi tre milioni si potrebbe investirli nello sviluppo del rugby del sud insomma lì come dire sì lo so che poi ci romperete le scatole perché facciamo due franchigie nell'arco di 40 chilometri però però questi soldi limiteremo poi al sud e quindi faremo rilancieremo il rugby di base in maniera che tutti siano contenti dicendo ah ok vabbè dai ma tanto chi se ne frega se non sono a Parma che se le facciano loro in Veneto però a noi ci danno dei soldi ecco questa quindi è una carta secondo me giocata in maniera intelligente da Padova che ripeto ha il suo perché ha la sua logica proprio matematica e poi la terza ragione che viene detta è che questo permetterebbe alla fiera ecco questa è quella che mi piace di più di pensare ad altro cioè come dire tra parentesi non è che una squadra la gestite proprio benissimo quindi fate fare a noi fate fare ai privati dateci i soldi hanno detto se volete potete così come fate al benetton venire a dire un po la vostra sulle su alcune su alcuni dettami tecnici di sviluppo non troppo la relazione treviso federazione negli anni non è che sia stata proprio fantastica soprattutto in tempo munarigavazzi però insomma adesso è migliorata potete venire a dire un po la vostra non troppo non troppo e intanto pensate un po all'altro l'importante è che non vi dimentichiate di darci i soldi e l'intestazione per fare la campagna acquistica interessante interessante perché vengono scoperte tante carte che quantomeno ai non addetti ai lavori e mi ci metto dentro di mezzo anch'io perché sono un semplice appassionato ai non addetti ai lavori non tutte queste carte erano proprio visibili e alla fine la cosa che a me sembra un po più interessante di tutto questo panorama occhio ovviamente dal 28 è un podcast che parla di top 10 e quindi li chiedono ok ma di padova rovigo nel top 10 che cosa ne sarebbe in questo caso e allora lì l'origine non si sbilancia però dice quello che loro vorrebbero dice noi volendo non vorremmo rinunciare come ha fatto a suo tempo che poi non l'aveva fatta treviso ma era stata obbligata come aveva fatto a suo tempo treviso alla partecipazione del top 10 avremmo una seconda squadra che in questo momento in serie a la stessa cosa potrebbe eventualmente fare rovigo e quindi loro optano per una soluzione seconde squadre dove addirittura l'origine dice partendo magari dalla serie a arrivando quindi in top 10 per meriti sportivi e lì si vede un po di paura che anche treviso vada in top 10 ci dico io perché all'inizio dicono non come treviso poi dicono sì però questa cosa non deve essere per meriti divini bisogna arrivarci e ovviamente allora nel caso di treviso dovrebbe partire un po più indietro eccetera eccetera a parte questi giochini di cortile io dico se ci sono le seconde squadre ci sono per tutti se c'è la padua se c'è la rovigo è giusto che anche treviso abbia la seconda squadra e lì che cosa succederebbe si aprirebbero vari problemi e varie tematiche anche varie opportunità perché uno bene padova rovigo e treviso in urc con padova rovigo treviso in top 10 ovviamente i soldi destinati al top 10 alla urc non sarebbero gli stessi destinati al top 10 sarebbero eventualmente due entità separate le squadre però le squadre di top 10 quando e come potrebbero fornire giocatori allo urc e soprattutto la squadra di urc quando e come potrebbe abbassare mandare giù giocatori al alla seconda squadra domande molto molto interessanti poi uno dirà ok però questo snatura la competizione sia un po è vero perché comunque le strutture di padua rovigo e treviso diventerebbe ancora più importanti anche faccio delle degli esempi stupidi anche dal punto no stupidi degli esempi così concreti anche dal punto di vista tecnico treviso padua rovigo potrebbero in questo caso usufruire di risorse tecniche che magari non può non può usufruire che ne so via dana o il neopromosso custorino giusto per dire giusto per dirne una perché perché possono attingere appunto anche dal lavoro dal lavoro con le franchise in parte è già così perché sono delle realtà privilegiate però questo verrebbe addirittura istituzionalizzato ma anche detto che il campionato italiano è già un campionato anomalo perché ad esempio già solo la presenza delle fiamme oro lo rende un campionato anomalo perché una squadra bene o male finanziata dallo stato perché è il corpo e la squadra della polizia quest'anno c'è stato il il caso dei giocatori che devono fare una scelta no quindi ci sono un po di problematiche da risolvere secondo me risolvibili onestamente secondo me risolvibili dall'altro lato se si vuole rilanciare il campionato italiano domestico come si è detto che si vuole fare e come secondo tutti me compreso deve essere una delle priorità federali bene che cosa volete di meglio di un campionato italiano dove torna treviso dove ci saranno non solo più i derby padova rovigo ma anche quelli treviso rovigo anche quelli treviso padova e si care rovigo e padova ci siamo anche non lo dico da tifoso di treviso lo sapete c'è anche treviso e quindi questo sicuramente accenderebbe accenderebbe il campionato ancora di più renderebbe un po meno facile vincerlo per per padova e rovigo scherzo amici padovani rovigini rovigini non devo dire rovigo rovigini e allora e allora insomma questa questa ipotesi sarebbe sicuramente molto molto spuzzicante in più un campionato che magari può crescere con appunto nuovi innesti come anche questo appunto della presenza del custorino un calvisano comunque per anni dominante che adesso proverà a ricostruirsi un viadana rigenerato magari dalla cura german fernandez colorno il lavoro che sta facendo i contratti televisivi qualche sponsorship magari qualche cambio a livello di marketing e comunicazione che abbia un minimo di di senso magari perché no creare un campionato a fine anno come quello francese di seven ma forse sto sognando però diciamo che sono tutte cose che potrebbero secondo me fare molto 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 bene al campionato italiano e ovviamente di conseguenza anche all'alto livello inteso come franchige e nazionale non me ne vorranno i parmensi non sono io che sto proponendo questa cosa sto solo riportando quello che è stato detto va detto che per quello che sento in giro per quello che si parla con i parmensi credo che parma se avesse la possibilità di rilanciare appunto già c'è già c'è colorno ma se avrebbe la possibilità di rilanciare il rugby di club parmense sarebbe non credo che sarebbero versati fiumi di lacrime abbiamo avuto anche quest'ultima intervista con i giocatori giocatori che sono passati alle zebbre nel podcast insomma anche le ultime conferenze stampe sentite stampa sentite dalle zebbre dalle zebbre sì non mi sembra che ci sia proprio questo amore come dire smisurato tra la città di parma e le zebbre quindi insomma non credo che piangerebbero che piangerebbero in molti vediamo se questa realtà si concretizza io non sono partitario per nessuna di queste opzioni però onestamente bisogna rilanciare il campionato e bisogna rendere competitive entrambe le franchige questa mi sembra una soluzione una soluzione accettabile ditemi che cosa ne pensate ditemi assolutamente che cosa ne pensate un bacio ci vediamo questa sera alle nove con ottavio magari parleremo anche un po di questa cosa però l'idea questa sera è parlare invece di uc premiership top 14 e super rugby una 15 20 minuti per campionato facciamo un po la panoramica su quello che succede a meno che non ci bombardate di domande su sta roba qui allora resteremo un po più su questo tema qui un bacio enorme fischio finale iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto spingiamo assieme questa moll in tutte le maniere possibili commenti condivisioni like chi vuole entrare nella community patreon portare qua qualche amico qualche compagno di squadra dai su spingiamo 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 la moll ciao ragazzi a presto